Eccoci in mente insieme, allora quarta e ultima parte per questo noi di Calcio.basket, ancora ben trovati, parte dedicata come di consueto al Sant'Arcangelo e alla Lega Pro. E allora dobbiamo commentare una partita che si è giocata sabato, 1-0-0 con l'Ancona che ha permesso ai gialloblu di muovere la classifica, prestazione non bellissima ma comunque un punto con l'Ancona credo non sia da buttare via, ma adesso lo chiederemo ai nostri ospiti e siamo alla vigilia di un match molto importante, un match delicato perché si giocherà domani sera il recupero nella Tana della Reggiana. Quindi insomma tra due fuochi il Sant'Arcangelo in questi giorni, ovviamente squadra in ritiro, fortunatamente c'è anche qualcuno che non lo deve fare, che speriamo di rivedere presto in campo, allora salutiamo Lorenzo Paramatti, ben trovato. Buonasera. Difensore del Sant'Arcangelo, infortunato in questo momento Lorenzo. In questo momento sì. Per quanto ne avrai, che cosa hai? Ancora non lo so, due settimane fa ho avuto problemi alla schiena, mi hanno trovato tre ernie, quindi adesso... Tre? Al prezzo di una? Quindi adesso stiamo cercando di lavorare e rientrare il prima possibile. Speriamo di vederti davvero presto in campo, buonasera Loriano Zannoni, buonasera a tutti, ancora buonasera a nostra Silvia Pedini e al nostro Cesare Trevisani. Allora Lorenzo, partiamo dalla gara ovviamente giocata sabato, questo 0-0 con l'Ancona, ti è piaciuto? Una partita che insomma secondo te avrebbe potuto giocare meglio il Sant'Arcangelo? Partita non bella dal punto di vista dello spettacolo, sicuramente un punto importante che a noi ci serve per riuscire poi a raggiungere il nostro obiettivo. Come hai detto tu prima, non è stata proprio bellissima a livello di spettacolo, però alla fine si è riuscita ad ottenere un punto importante contro un avversario forte. Loriano? Guarda, è stato anche detto addirittura la peggior partita dell'anno del Sant'Arcangelo, credo l'abbia accennato anche Marco Lini in un tratto della conferenza stampa del post partito. Magari anche no, nel senso che poi lui stesso aveva accennato anche col Bassano ad esempio, pur con la scopola ricevuta, qualcosa abbiamo creato e poi ne abbiamo presi quattro. Guarda, è vero però che sei stato solido difensivamente, un punto l'hai pur guadagnato, quindi bisogna vedere da dove si guarda. Certamente non ha prodotto come all'inizio del campionato e come anche in qualche partita sfortunata, però è stata solida e tenere questa solidità con continuità per tutto il campionato può essere un punto di partenza per magari poi ritrovare anche la brillantezza più avanti. Cesare, ti è piaciuto il Sant'Arcangelo sabato? È stata anche secondo te la partita più brutta di questa stagione? Direi tra l'altro è iniziata benissimo il Sant'Arcangelo, aggiungerei questa postilla. Forse chi ha uno sguardo un po' così negativo ce l'ha perché Sant'Arcangelo ha partito molto bene, molto forte, era anche molto brillante e forse queste partite non sono a livello di prestazione all'altezza di quelle, però in questo campionato è talmente così complicato, talmente così difficile che nei momenti anche magari un po' più complicati portare a casa sempre dei punti fa bene. È chiaro che il Sant'Arcangelo deve fare secondo me quel passaggio di maturità che lo porta ad essere una squadra, la scorsa settimana avevamo detto due settimane fa particolarmente organizzata in fase difensiva e non lo voglio rimarcare più perché poi non è andata bene a Bassano, però sabato secondo me ha rifatto vedere che è una squadra che sa controllare la partita e la sa portare avanti senza soffrire tanto. Adesso deve fare quello scatto magari di migliorare la qualità propositiva del suo gioco, non è semplice perché non ha secondo me tanti uomini in grado di cambiare marcia in questo senso, però bisogna anche raccontare quale campionato che deve fare Sant'Arcangelo. Perché voglio dire, è chiaro che se tutti pensavano che esser là nella alta colonna di sinistra fosse la residenza della squadra, secondo me aveva ragionato male, insomma la residenza di Sant'Arcangelo è speriamo a cavallo fra le due colonne il più lungo possibile. Credo il presidente Broglie ci metterebbe la firma subito. E lì ci stanno chi è concreto, chi maschera le difficoltà, chi porta a casa punti sempre, chi magari prende una sbandata a Bassano ma magari un'altra volta gli riesce un colpo a Reggio Emilia, cioè bisogna trovare una dimensione logica, non ci si può affascinare troppo. C'è ovviamente che la puntata viene registrata, quindi quest'ultima affermazione che hai fatto l'unione di prossimo potrebbe essere riportata, insomma ci auguriamo per il Sant'Arcangelo come quasi un Cesare Trevisani profetico. Ce l'auguriamo, l'auguriamo per il Sant'Arcangelo. Silvia, quindi anche alla luce di questa partita si può archiviare lo scivolone anche numericamente, insomma importante con il Bassano come proprio un incidente di percorso? Sì, l'ha detto anche il loro allenatore a fine partita, ha detto che comunque ha influito quello scivolone, un po' si è visto anche nella partita di sabato, però secondo me la dinamica che ha fatto lui della partita è quella che sono d'accordo con lui, adesso loro devono pensare a mercoledì, a martedì scusa, domani perché incontreranno una squadra molto forte. Eh sì, in uno stadio bello, un bello stadio. L'allenatore, ci ha detto a noi, secondo lui la più forte di questo campionato a livello di nomi, di giocatori che comunque hanno dell'esperienza. Il livello di questo campionato è molto alto, io me ne sto rendendo conto con Forlì, al di là che è ultimo, però sono tutte squadre attrezzate, con grandi nomi, messi bene in campo, grandi allenatori, è un bel girone. Io direi che è un rammarico grosso anche per tutti i tifosi e appassionati riminesi, perché insomma ci sarebbe piaciuto fare questo campionato insieme al Sant'Arcangelo, perché davvero credo sia rispetto agli ultimi anni ancora di un livello un po' più alto. La tua sensazione venendo le prime partite, Lorenzo? Adesso ho sensazioni positive, è un girone molto complicato rispetto agli altri anni, il livello si è alzato, grazie a squadre importanti che hanno appunto fatto acquisti importanti, vedi la Reggiana, la Spal, cioè la Spal in Venezia. La Spal è fatta talmente importante che è già salita. Io l'ho fatta anche una bella vittoria. Sì, il livello si è alzato, è più competitivo e bisogna cercare di affrontare nella maniera giusta tutte le partite e nel nostro caso cercare di riuscire a portare a casa più punti possibili. Qual è la tua favorita per la vittoria? Qual è la squadra che ritieni più attrezzata? Adesso è difficile dirlo, siamo all'inizio e bisogna far passare del tempo. Quindi è troppo presto. Sì. Seguirai i tuoi compagni a Reggio Emilia? Sì, sì. Quanto ti dispiacerà non poter scendere in campo? Non scendere in campo è qualcosa di brutto, poi soprattutto neanche andare in panchina, star fuori è ancora di più. Però siamo un bel gruppo e riusciamo, diciamo che passa anche questa, dai. Come ti stai trovando a Sant'Arcangelo? Mi sto trovando bene, come ho detto prima è un bel gruppo, mi sono subito integrato bene grazie anche all'aiuto dei compagni, dello staff e speriamo appunto che sia appunto un'annata positiva. Andiamo a vedere anche con l'aiuto del nostro Digo Zicchetti in regia i risultati e come si è mossa la classifica di questo difficile girone B di Lega Pro. Loro e Loriano? Un sacco di pareggi. Tanti pareggi, sì. Sì, sette pareggi. Sì, i primi sono tutti pareggi e d'altra parte poi è vero che se appena una delle superfavorite cade, io ad esempio il Venezia, al di là del fatto che magari si percepisce una non così altissima stima di Inzaghi e tutto il resto, in giro nonostante abbia fatto anche qualche panchina in Serie A e se lo ricordano recentemente, Pordenone, altra squadra tosta, quindi non deve neanche sorprendere quello. Però insomma il fatto che nessuna tra Parma, Reggiana, Venezia e Levere Big riesca ad infilare quella striscia dice della qualità ad alto livello e del fatto che probabilmente non ci sarà la mazza campionato, ma qualcuna che lo vincerà dopo una lunga lotta, normale, può succedere anche di vedere una giornata del genere con tanti pareggi, la più sorprendente ma tra virgolette per il momento è Pordenone perché comunque la squadra ce l'ha, è solo che stona magari solo il nome Pordenone vicino a Parma, Reggiana, Venezia e tutte le altre. Però Silvia se ben ricordo avevi detto un paio di settimane fa che il Pordenone insomma ti ispirava, era una squadra tosta. L'avevo visto sì, sì sì, mi è piaciuto molto, anche col Parma aveva perso ma aveva tenuto, aveva tenuto, mi ricordo era andato in vantaggio 2-0, poi vabbè dopo il Parma che secondo me non sta giocando benissimo però ha dei nomi che ha un attacco per forza di cose ti fa gol. Quindi no, no, il Pordenone mi piace molto, mi ha impressionato sì. Caduta diciamo invece del Forlì sul campo del Faral-Pisalò, abbiamo detto che il Faral-Pisalò è una squadra importante però insomma... Da tanto che è Lega Pro ma lì ha influito soprattutto la testa, nel senso che dopo i due gol iniziali non c'è più stata la squadra in campo. Hanno mollato. Hanno fatto anche un altro gol, secondo me penso che il Faral-Pisalò si sia fermato, se no potrebbero, avrebbero potuto fargli neanche 10 i gol. Non erano più in campo. Andiamo a vedere la classifica, come si è mossa, la commentiamo anche con Cesare. Pordenone che giustamente batte il Venezia, vince il big match ed è a 16. Sì, è un po' indietro il Parma perché sinceramente mi aspettavo... Oddio, non è che ha compromesso niente, però non è proprio addosso alla prima ecco. Però diciamo che anche qui mi sembra che le prime 5-6-7 squadre, a parte forse un po' il Gubbio che non me lo aspettavo così in alto. Insomma, c'erano un po' quelle che se la giocheranno più o meno fino alla fine in un campionato che ha un'area play-off molto ampia e quindi garantisce veramente un livello di competitività per tutto il campionato. Se pensiamo che solo in 5 staranno la finestra alla fine, insomma, il campionato si annuncia combattuto fino alla fine. 9 punti, Lorenzo vi soddisfano? Come detto prima, siamo partiti molto bene con due vittorie importanti, un pareggio col Parma. L'unica partita che alla fine purtroppo abbiamo perso è stata quella col Bassano, però non si può dire secondo me nulla. Abbiamo fatto il massimo e questo è quello che si è riusciti a raccogliere. Parlaci un po' anche di te, della tua storia. Tu sei un figlio d'arte, ti ho accolto con il corretto dedicato a tuo babbo, che è stato un giocatore importante, Michele. C'è cresciuto nelle giovani del Bologna e dell'Inter. Sì, ho fatto i primi tre anni al Bologna, poi sono passato all'Inter, l'ho fatto quattro anni, erano qui gli ultimi due di primavera. Finita la primavera mi ha ricomprato il Bologna, ho fatto l'anno della Serie B, dove si è salito in Serie A, solo che ho avuto un infortunio abbastanza grave, che mi ha tenuto fuori un anno. Mi hanno dovuto operare due volte al ginocchio. Tre ernie, due operazioni al ginocchio, o di poson più o niente, singola niente, è una roba normale. Tutte sfide da affrontare. Tutte sfide. Più competenti. E niente, quindi ho dovuto saltare completamente un anno, perché mi hanno operato due volte. Poi l'anno scorso sono stato in prestito a Siena, e quest'anno ero andato in prestito a Messina, sono stato un mese e poi sono venuto qua. Poi si è fuggito via. Era troppo al sud, Messina? No, sono cambiate diverse dinamiche in quel mese, diversi accordi. Il Bologna non stava comunque più bene che stessi là, e quindi si è intrapreso un'altra strada. Sei sempre... il cartellino è sempre del Bologna? Sempre del Bologna. Questo è l'anno prossimo. Come è arrivata la chiamata del Sant'Arcangelo e anche la tua scelta di dire sì? La chiamata del Sant'Arcangelo è arrivata da parte della società, che aveva contattato il mio procuratore e appena l'hanno contattato mi ha chiamato e ho deciso insieme anche al Bologna appunto di accettare e di intraprendere appunto questa avventura. Oriano, domani c'è subito un test diciamo davvero importante per il Sant'Arcangelo. Diciamo anche io, lo voglio ribadire, che non è il primo perché in questo periodo di campionato il Sant'Arcangelo ha incontrato già diverse squadre e sono già in alto alcune di quelle che ha affrontato e bene, giocando anche molto bene nella vita di campionato il Sant'Arcangelo. Ma io aggiungo anche la partita di Coppa con il Venezia. Il Venezia è andato avanti, però pareggio ottimo dal punto di vista del giocato da parte del Sant'Arcangelo. Quindi complessivamente, anche in periodo di preparazione, un buonissimo inizio. Domani è una partita particolare, nel senso che non credo che debba neanche essere troppo caricata di pressione particolare. Insomma, arriva dopo tre giorni dalla precedente. Probabilmente il tempo tecnico per prepararla nel dettaglio sulle caratteristiche degli avversari è anche meno e quindi tanto vale, certamente prenderla con serietà, però senza pressioni. Insomma, senza neanche stare a guardare troppo il singolo nome che ha la Reggiana, ma giocarsela con tranquillità, perché se arriva un buon risultato, una buona prestazione e tanto di guadagnato, la Reggiana dimostrerà quello che il suo parco giocatori è. Pazienza, ma insomma, non credo che, certamente con concentrazione, ma senza pressione, perché questa è la partita ideale, poi ce ne sono tre in una settimana, metterci troppo di personale, troppo a carica emotiva in questa, poi magari ti delude, perché la forza è avversaria ampia e poi ci sono altri pochi giorni per preparare un'altra partita. Con tranquillità, credo, deve essere il motto di domani. Anche se, Lorenzo, gli stimoli sono tanti quando si va in uno stadio del genere contro un avversario del genere. Credi sì. No, i stimoli sono tanti e è tutta questione di atteggiamento. Bisogna andare lì, cercare di dare il massimo e poi sperare appunto di portare a casa i punti. Sono partite, insomma, che come dicono i guadagnatori non bisogna preparare, nel senso che si preparano da sole a livello mentale, ovviamente. Comunque non è che ieri, non è che sabato la Reggiana ha triturato l'avversario di turno, ma si può anche... Si può fare. La pressione però, giustamente, come c'è da Loriano... Meglio che ce l'abbiano loro ed è giusto che ce l'abbiano loro perché devono fare il campionato da protagonisti a cui sono chiamati. Però, voglio dire, non è che ci sono delle vittime predestinate. Tanto accadde una squadra pericolosa. Cioè, voglio dire, non è semplice. Intanto non è semplice attaccarla e segnarli, dico. E poi ha anche dei giocatori che quando c'è da fare la battaglia ci sono. Ecco, volevo... Curiosità, scusa, anche di vedere, perché è la prima, tutto sommato, una delle poche occasioni qui. vediamo un po' se cambierà qualcosa dal punto di vista statatico, perché credo che il 3-5-2 sia abbastanza solido nelle convinzioni e in quello che hanno fatto i ragazzi in campo. Ma nei giocatori, per vedere se il Sant'Arcangelo... Credo che sia qui e il prossimo sabato che il Sant'Arcangelo può far vedere se ha una rosa che gli può permettere di qualche ricambio. Dicono sempre gli allenatori, adesso, probabilmente anche Marco Alini, ma tutti in generale. Tutta la rosa è importante alla stessa maniera. Vediamo in queste partite se l'è così quanto cambierà a livello di singoli giocatori il mister per capire anche la considerazione che lui stesso avrà nel gruppo. Mi dite qual è la cosa che fino a questo momento vi ha impressionato maggiormente in positivo di questo Sant'Arcangelo? In positivo l'organizzazione difensiva. Ripeto, è una squadra molto complicata da attaccare, secondo me, molto organizzata. mi stupisce una bambola come quella di... Una bambola dal punto di vista numerico. Io non ho visto la partita quindi non so dire. Si è sofferto molto sulle fasce. Mi ha veramente molto stupito però è una squadra che... Poi questo diventa anche un po' il suo difetto perché manca, secondo me, di giocatori che accendono una lampadina. Il Margiotta del scorso anno ha giocatori con una certa brillantezza. Cesareti ancora secondo me può fare molto di più. Ha delle caratteristiche ma può fare molto di più. però è una squadra che nella fase difensiva veramente mi ha stupito. Silvia? La cosa che ti ha stupito di più in positivo del Sant'Arcangelo in questo avvio? Beh, a me mi piace molto l'allenatore. Cioè, la... Quello che è riuscito a fare l'allenatore con questa squadra. In poco tempo? In poco tempo, sì. Questo mi ha stupito molto. Noriano? Guarda, sul cambio di passo sono d'accordo con Cesare ma anche probabilmente io all'inizio del campionato è in Coppa ho visto molto bene Cesareti che aveva iniziato molto meglio di come sta andando le ultime settimane ma anche Posocco che a destra ha fatto delle buonissime partite anche in ripiegamento ma insomma aveva quella brillantezza che sembrava poter dare quel quid in più a destra. Poi come continuità sicuramente Adorni dietro che sta dirigendo la difesa benissimo Carlini in mezzo è stato spostato a sinistra a destra ha fatto il laterale ha fatto qualsiasi ruolo lo fa benissimo corre dall'inizio alla fine. C'è una dischetta a spina dorsale devono ancora mettersi insieme alcune cose ma quello che certamente manca è un po' l'inventiva un po' il cambiare passo in certi momenti della gara che però insomma già essere solidi in questa maniera per una squadra quasi totalmente rinnovata è un buonissimo punto di partenza. Ecco abbiamo parlato anche di prossimi impegni insomma Sant'Arcangelo che Lorenzo ha le carte in regola però per poter giocare un buon campionato lo ha dimostrato in queste prime giornate noi diciamo i campionati si vincono diciamo in precedenza nelle parti precedenti di Calcio.Basket si vincono soprattutto grazie a una grande difesa è un Sant'Arcangelo che leviamo lasciamo da parte la sbandata di Bassano però per il resto la solidità ce l'ha in questo caso non per vincere il campionato ma per centrare la vittoria del Sant'Arcangelo che è una salvezza il più tranquilla possibile sì come detto prima siamo partiti bene adesso dare cioè è difficile dire dove possiamo arrivare cosa possiamo fare siamo siamo all'inizio siamo partiti bene come detto voi abbiamo tutte le carte in regola per fare un buonissimo campionato e da affrontare tutte le squadre perché se si affronta con l'atteggiamento giusto anche il Parma della situazione che ha giocatori che hanno esperienza e nomi però si affronta con l'atteggiamento giusto come abbiamo fatto si portano a casa dei punti importanti che poi nel corso dell'anno è uno più uno e ti aiutano ad arrivare appunto agli obiettivi quindi dire adesso dove possiamo arrivare è difficile sicuramente l'obiettivo è la salvezza poi appunto cerchiamo di affrontare al meglio e portare a casa più punti possibili chiudo con tornando sul personale com'è portare un nome che comunque in alcune città tipo Bologna è un certo nome non so perché normale no personalmente non la sento la pressione non sento nulla perché alla fine lui ha intrapreso la sua carriera io intreprenderò la mia sono due persone distinte c'è padre e figlio però nello stesso ruolo però sì lui più terzino io più terzino però sinceramente non sto a sentire queste cose alla fine in campo vado io quindi dipende tutto da me e allora noi ti facciamo in bocca al lupo per innanzitutto per un pronto rientro perché ti vogliamo vedere in campo e speriamo di averti qui ospite tra qualche mese dopo aver giocato anche tra qualche settimana tra qualche settimana dicevo nella rotazione complessiva dopo aver giocato qualche partita grazie Lorenzo Paramatti grazie a Floriano Zannoni grazie a Silvia Pedini grazie a voi e grazie a Cesare Trevisani un pensilino Cesare sì per la seconda parte del titolo della nostra trasmissione che ogni tanto ci dimentichiamo ma che c'è che c'è e che rimarrà tale lo dico per tutti i colori che dicono ma perché c'è ancora il basket c'è perché il nome è quello c'è perché ogni tanto bisogna ricordarsi che c'è anche il basket e ha maggior ragione questa sera perché ha cominciato il campionato la squadra ha vinto in trasferta ed è bene che i riminesi cominciano a frequentare stadi palazzi palestre di tutte le squadre che portano in giro il nome di questa città perché c'è secondo me un pericoloso disamoramento verso le cose viste da vicino quasi che tutti amassero solo chissà che cosa abbiano chissà quale soddisfazione vedere le cose in digitale diciamo così invece secondo me andarle a vedere dal vivo e allora forza NTS che hanno cominciato in bocca al lupo e giocheranno in casa la prossima credo quindi meglio andarci eh sì un invito anche al palazzetto anche perché a tutti i luoghi dove gioca qualcuno dal vivo una domenica calcio.basket come era una volta su Rarico con le dirette del Rimini e poi le dirette del basket Rimini Krebs siamo in addirittura d'arrivo grazie Simona grazie a voi appuntamento a una delle prossime occasioni tanto ce ne saranno ogni tanto la nostra Jenny va via e noi chiameremo te perché insomma sei un'ottima è brutto dire sostituta però insomma sei un ottimo personaggio con cui poter rimpiazzare le assenze della nostra Jenny ogni tanto per lavoro grazie a tutti voi per aver seguito calcio.basket che vi dà appuntamento a lunedì prossimo sempre a partire dalle 19.45 ma prima ci sono altri appuntamenti su Icaro TV e anche su Radio Icaro ricordo la domenica dalle 15 la diretta delle partite diretta da diversi campi nel nostro territorio con 92.1 minuto tutto il calcio nel nostro territorio minuto per minuto ovviamente campo principale domenica sarà quello di Rimini Romeo Neri per Rimini Fia Riccione e poi l'appuntamento delle 18.30 con sempre della domenica con Calcio Junior TV e con la nostra Silvia Pedini insieme a Giuseppe Colonna e insieme ai contributi di Cristian Chiarabini la promo sport sarà protagonista domenica dopo che ieri è stato il Rimini Football Club e poi appuntamento alle 20 con Overtime della domenica ovviamente alle 22 della domenica la partita integrale del Rimini ma prima ci sarà quella di mercoledì l'infrasettimanale con il Real San Lazzaro è tutto a tutti e un buon proseguimento di serata e un buon proseguimento Grazie a tutti